Decine di foggiani chiedono di poter votare le prossime elezioni comunali in un seggio vicino alle proprie abitazioni. La richiesta arriva dalle famiglie del Salice Nuovo al comune di Foggia, al quale attraverso un'email scritta dalla presidente del comitato Salice Nuovo, Siponta Morlino, chiedono l'attivazione di un seggio elettorale nella zona e comunque non a distanza di 11 km. Gli elettori in questione infatti per votare sono costretti a recarsi nella sede assegnata, che è quella di Borgo Incoronata, che dista 11 km dalle loro abitazioni. In più occasioni gli stessi avrebbero chiesto di poter votare in una zona più vicino, come per esempio nei due seggi del CEP, l'Istituto Zingarelli e Vittorino De Feltre. Originariamente la sezione dedicata alle famiglie del Salice Nuovo era la 90, ubicata a Borgo Cervaro, poi però chiusa per inagibilità. Dal settembre del 2020 la sede era stata spostata alla sezione 89, quella di Borgo Incoronata, una zona molto distante e difficile da raggiungere, soprattutto per gli anziani, rispetto al quartiere CEP, quartiere che dista sì 4 km, ma comunque 7 km in meno rispetto al seggio di Borgo Incoronata. Una richiesta inviata al comune, corredata anche dai 30 nominativi richiedenti, che reclamano in questa tornata elettorale, di poter votare nelle due scuole vicino alle loro abitazioni. Se la richiesta, dicono, non dovesse essere ascoltata e accolta, i residenti del Salice Nuovo non andranno a votare come forma di protesta. Sul fatto è intervenuto anche l'europarlamentare Mario Furore, coordinatore provinciale del Movimento 5 Stelle, che ha inviato una PEC al commissario straordinario del Comune di Foggia, Vincenzo Cardellicchio, per ospicare una positiva soluzione del caso sollevato dalle famiglie. Non conosco le ragioni che hanno determinato questa scelta da parte dell'ufficio elettorale, dice Mario Furore, ma il buon senso dovrebbe suggerire determinare una nuova opzione in città e più facilmente raggiungibile. L'astensionismo incentivato non ce lo possiamo permettere, conclude l'europarlamentare Furore, in un appuntamento elettorale così delicato.